Buon pomeriggio, si parla sempre del rinnovo di Leao, giustamente si parla sempre del rinnovo di Leao, però io vorrei parlare del rinnovo di un altro giocatore, oggi fondamentale, oggi diventato un campione sulla strada per diventare un fuoriclasse, sto parlando di Ismail Benassè. Per quello che riguarda per esempio Pier Calulu credo che sia il prossimo rinnovo che verrà portato avanti dai pleni potenziari del mercato, dalla società e credo che non ci saranno problemi, il giocatore troverà un accordo, un accordo che premi il suo miglioramento, premi soprattutto la sua crescita, oggi giocatore importante della difesa del Milan, un giocatore assurdo a livello internazionale. Ma veniamo e torniamo al problema Benassè. La situazione di Benassè, mi hanno sempre detto, detto, ve l'ho sempre detto da diverse settimane, quasi da mesi, non è facile, non è facile perché il giocatore ha le sue richieste, sono richieste importanti, sono richieste che vanno vicine al contratto di uno dei top player in questo momento del Milan a livello di ingaggio, cioè Teo Hernández. Solamente che Teo Hernández ha potuto usufruire del decreto crescita, quindi il 4,5 circa non sono 9, ma sono 6,7 lordi che tira fuori il Milan, perché non dobbiamo dimenticare che noi guardiamo il netto, ma spesso si sbaglia perché poi bisogna invece guardare il lordo, quello che escono dalle casse della società, ovviamente. Benassè vorrebbe questa cifra, ma per il Milan sarebbe un 8,5-9 lordi nel caso accontentasse il giocatore. Quindi in questo momento non vedo una strada così agevole per trovare un accordo, ma non dobbiamo dimenticare che oggi Benassè è il regista basso della squadra, il giocatore che fa girare la squadra, il giocatore punto di riferimento, migliorato anche sul piano della fisicità, sul piano della qualità, è il nostro signorì, è il nostro vecchio Pirlo, è il Modric del Milan, cioè il catalizzatore. A volte va tonali quando non c'è Benassè, ma tonali ha più, ha altre caratteristiche di inserimento, di corsa più, diciamo, totale sulle fasce, fascia destra, fascia sinistra. Però Benassè ha proprio questo brain power, questo potere del cervello che in questo momento garantisce la manovra del Milan, il punto di riferimento della manovra del Milan. Ecco perché Leao e Benassè saranno due compiti gravosi da parte ovviamente dei pleni potenziali, dicevo, del Milan. Un Milan che oggi si ritrova a Milanello per il primo giorno di lavoro. Nel video di questa sera cercheremo di capire le condizioni e cercherò di informarvi, perché si dicono tante cose, ma non si dicono cose concrete. E non ve le dico in questo momento neanch'io. Cioè capire se Rebic oggi è in gruppo o non è in gruppo è una domanda. Se non fosse in gruppo bisogna capire a che punto sia la sua problematica riguardante la schiena. Si dice di un viaggio di un sanitario del Milan in Belgio, come sta andando l'infiammazione di origine. È inutile dire che un dottore è andato, ve l'abbiamo già detto. Bisogna capire quali siano il risponso, quali siano le previsioni, quali sia l'evoluzione del problema di origine. Quindi sono due temi importanti. Teo Hernandez lo sappiamo, anche lì capire, e io non ho ancora verificato. Si dice niente di particolare, però noto già che si sposta il dà. Beh, non ci sarà con l'Empoli. Beh, speriamo che recuperi col Chelsea. Eh no, speriamo. Bisogna capire di che grado sia la gravità dell'infortunio di Teo Hernandez. Tutte queste notizie cercherò di approfondirle e cercherò di saperle, di conoscerle, perché per dirvi ancora, va, vediamo sta meglio o no, è inutile, non mi interessa, diciamo, condire una notizia tanto per sottolinearla e basta. Quindi anche questo punto c'è il rinnovo di Benasser. Cercherò di capire a che punto siamo. Si sta parlando, si sta discutendo, ci si viene un po' incontro o la posizione sono molto distanti, come è nata distante la trattativa. È nata distante di molto la trattativa. E invece per quello che riguarda gli infortuni, anche lì bisogna dare delle notizie e cercheremo ovviamente di darle. Non ci volevano questi intoppi, ma, signori, si giocano le prossime 12 partite, se ne sono giocate, mi sembra, di 9 tra campionato e Coppa da agosto, perché in totale erano 21, quindi 12 e 9 fa 21, e quindi ci possono essere questi intoppi. Già il Milan è andato bene, perché salvo il problema di Origi. Figli, dicevo, questi problemi degli suoi infortuni già a Liverpool. Sapevamo che poteva esserci qualche intoppo, non lo immaginavamo così lungo questa riabilitazione fisica da parte di Origi. Come non ci aspettavamo, sì, però di Erebic ci si può immaginare. No, un Aernia al disco non ce la si può proprio immaginare. Prima di passare alla rubrica dedicata ai commenti, che suscitano ancora discussioni, abbiamo parlato di Armando Broia, l'attaccante del Albanese, so che vi piace, poi leggeremo i commenti, ci sono altri nomi, commento anche altri nomi. Volevo ricordarvi di scaricare, dal link in descrizione, la app numero 10. La app numero 10, gratuita ovviamente, molto giovane, molto moderna. C'è una notizia che volevo sottolineare, se andate, una notizia quasi clamorosa. Il titolo è, e andate a approfondirla, andate, ricordo che parla di statistiche, statistiche di squadre di calcio, europee, italiane. Il titolo è, Napoli meglio di Manchester City, Spezia meglio di Juventus. Meglio in che cosa? Andate e troverete che è vero, Napoli meglio di Manchester City in una particolare statistica e Spezia meglio di Juventus in una particolare statistica. Ma adesso parliamo della rubrica, apriamo la rubrica dedicata ai commenti e sviluppiamo altri temi. E nella rubrica tanti commenti su Origi e sui problemi del Milan. E io mi addombro subito con Massimiliano Destro, perché mi dice ma come paragoni Origi e Crespo? Attenzione Massimiliano, mi arrabbio, non ho paragonato Origi a Crespo. Ho detto che Crespo, quando è venuto al Milan, aveva tantissimi problemi fisici. Lo ricordo in condizioni disastrose in Milan-Lazio. Era a settembre, a novembre abbiamo visto uno splendido giocatore che ci ha trascinato fino alla finale di Istanbul, la meravigliosa e maledetta finale di Istanbul. Quindi lì sta il mio paragone. È piaciuto a tanti, piace a tanti la possibilità che venga Armando Broia nel Milan. Fisicità, potenza, esperienza in grande campionato, gioventù, prezzo importante ma abbordabile. Però c'è un altro nome che piace a molti. Io volevo farvelo questo nome. Vediamo chi è che mi parla di questo nome. Ecco, Mattia Pellè. Mi dice, bel nome Broia, ma le volevo segnalare anche Beto dell'Udinese. Il problema di Beto dell'Udinese è uno, non so, il Milan si è già interessato, non so quanto piaccia ai plenipotenziari del mercato del Milan. Non so quanto piaccia. Ecco, è un giocatore che però fisicamente, come esperienza del campionato italiano, come fiuto del gol, è certamente un giocatore molto, molto interessante. Però non so quanto rientri nelle grazie dei plenipotenziari del Milan. Ocafor, molti sono d'accordo con me, buon giocatore, ma se il Milan avesse un grandissimo centravanti, poi un altro centravanti, Ocafor potrebbe colmare. Ma partendo il prossimo anno da Ocafor mi sembra un pochettino un azzardo, perché, vi ricordate, anche Auge sembrava un giocatore, poi abbiamo visto che era un buon giocatore. Ma vi ricordate, a proposito di Auge, quanti rimpianti perché il Milan ha tenuto le Auge, ma ha dato via Auge? Eh no, perché bisogna ricordarsene quelle cose lì. Qualcuno sogna una coppia come il Gesso 91, Beto Sesco, questo giocatore del Salisburgo. È un giocatore interessante, però è un giocatore che personalmente non conosco a fondo, mi fido delle vostre sensazioni. Anche Rocco Baraglia è su Beto, piace molto anche lui, piace molto Beto. Poi qualcuno è molto critico, ecco, Terrain Moffi del Lorient di Ligue 2. Allora, di Ligue 1, scusate, questo Moffi, mi dicono sia un giocatore da squadra italiana di seconda fascia. E poi quando, vi assicuro, se vi dico queste cose fidatevi, quando andate all'Orient, buongiorno, 30. No, mi scusi, vuole 30. Ecco, quindi Moffi lo lasciamo. Mi segnalano anche un centravanti, un attaccante del Leicester, Pierluigi Baldana, Daka Patson. Non sta facendo benissimo in questa stagione, non sta facendo benissimo, quindi... Ragazzi, ricordo la frase di Pantaleo Corvino riportata da Conte, una frase che estremizza un po'. Però la frase dice, la frase dice, si può sbagliare la moglie, è un po' estremizzante ovviamente, ma la riportiamo, ma non si può sbagliare il centravanti e quindi non si può sbagliare il centravanti. Vediamo, qualcuno dice, purtroppo in Italia non possiamo comprare nessuno perché non nascono grandi centravanti. Il mercato italiano, signori, lo lasciate, diciamo, a parte. Qualcuno vorrebbe Ciacca Traore della primavera del Milan, giocatore ancora che deve crescere, che deve ancora formarsi compiutamente, da tenere. Ecco, Salvatore Pepe invece mi bacchetta. Ocafor non va bene perché non ha abbastanza esperienza. Invece Broia? Beh, allora, Broia ha l'esperienza di un anno al Southampton da titolare, che è diverso un anno da titolare nel Salisburgo. È un po' diverso. Quindi andiamo a sottolineare anche questo. Francesco esagera. Dice che Leao è da vendere, ma solo a 200 milioni. Credo che nessuna squadra vada a 200 milioni per Leao e io vi ho già detto chi prenderei al posto di Leao se Leao dovesse andare via. Seguitelo. Adesso non sta giocando e non so il perché, non so se sia un problema di infortuni. Ma questo Sinisterra colombiano è la mia scelta preferita, senza dubbi. Qualcuno Eglis mi dice, ho letto che Pioli vuol mandare via Adli a gennaio. Io sono un adlista. Spero che non succeda, spero che trovi spazio. Me lo terrei, però è un giocatore molto giovane. Se dovesse andare via a gennaio, certamente lo ritroveremo ancora più forte, secondo me. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like, iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegatti, attivate la campanella, andate sulla applicazione, scaricate l'applicazione dal link in descrizione di numero 10 e attenzione sta andando molto bene, ho ricevuto già i complimenti, il mio sesto podcast sulla storia degli acquisti di Ronaldinho, di Pato, di Beckham, la voce dei miei gol è bellissimo e a qualcuno pi è piaciuto e io sono contento.